Per una partita che sentivate tanto, si è visto in campo, siete riusciti a vincerla, vale doppio. I derby sono sempre i derby, sono una partita a sé, ci tenevamo, l'abbiamo preparata, l'abbiamo voluta insieme a questo pubblico, tutti assieme. Mi fa un invenso piacere per tutti, anche coloro che entrano per 5 minuti e danno l'anima. Hai giocato in Serie A, ma un pubblico così era un po' che non lo vedevi. Le partite sono sempre a sé, vedere in una serie di tutto questo pubblico e questo affiatamento, questo entusiasmo, dobbiamo continuare con questo entusiasmo.